Salve, sono Francesco e vi spiegherò il martirio di San Biagio, olio su tela, che è conservato all'interno della chiesa della Dolorata. Il dipinto raffigura il santo spogliato dalle vesti vescovili, è in atto di essere sollevato con la carrucola, mentre il carnefice è pronto per torturarlo con il pettine di ferro. In alto è rappresentato l'angelo in volo, che porta la corona del martirio. Lo stato di conservazione è mediocre, a causa della caduta di colore, tuttavia, possiamo osservare il buon livello qualitativo del dipinto. L'autore ignoto ha ben reso il dinamismo che anima tutta la scena, mettendo in risalto la discreta ricerca anatomica e l'espressività dei personaggi. La figura centrale di San Biagio spicca su un cielo cupo, che rende buia tutta la scena. Sono il santo illuminato, colpito in pieno dalla luce della grazia.